MSC Crociere è la prima compagnia di navi da crociere al mondo a produrre un cartone animato dedicato alla propria mascotte Doremi. A proposito, ma voi lo sapete come si realizza un cartone animato? Si studiano le espressioni, si studiano i movimenti, i vari caratteri diversi uno dall'altro e poi si incominzano a fare degli schizzi preparatori per immaginarsi un po' lo sviluppo del corto quindi lo sviluppo della storia, come interagiscono i personaggi fra loro e questi disegni vengono fatti in maniera molto spontanea perché servono solo per avere un'idea generale di come sarà poi il corto animato. Abbiamo già realizzato tanti cartoni animati dell'Antoniano ma questo è veramente il più speciale di tutti perché è fuori dagli schemi, non è una canzone già nota, è una canzone che è nata proprio per accompagnare l'esperienza di bordo, a bordo del navi MSC e questa volta stiamo mettendoci uno sforzo particolare, sei mesi che stiamo lavorando e questo è il banco di regia dove sta nascendo proprio il nostro film. Siamo arrivati a 4320 fotogrammi e il cartone animato è quasi finito non perdetelo sul web e a bordo delle navi di MSC Crociere